Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Siamo tornati di nuovo con lo shop giornaliero Intanto ragazzi supporto un creatore Tanix03 tutto grande, attaccato oppure tutto piccolo Attaccato è la stessa cosa però voi mettetelo così E iscrizione al canale, fatti questi due passaggi potrete vincere sempre skin Nelle serve private di Fortnite ma anche nelle sfilate Quindi facendo 3 win ovviamente in tutte e due Accettiamo, quindi ragazzi vediamo un po' lo shop di oggi Allora lama di ghiaccio Il piccone preferito di power che ha utilizzato l'ultima volta che ha giocato a Fortnite Ok, ok il suo sound Eeeh è ghiaccioso il suo sound Poi c'è lui, c'è lei scusate Ali di ghiaccio Ok la skin brividi Ok ci piace Poi che cos'è, che cos'è Ok poi c'è lui rompi palloni Raga scusate se sbaglio alcuni termini perché sono assonnato Allora primo colpo vedete Si gonfia man mano ragazzi Cioè è fighissimo questo piccolo Per chi ha il v-back se lo deve shop assolutamente E' troppo figo Bolle esplosive Mi è arrivata una notifica dell'item shop su un'applicazione che ho Poi c'è questa Ok scorriamo i vari modelli Perfetto ragazzi Tutti un like per chi è in live Ok Poi c'è Poi c'è lei ragazzi la skin Da 1200 v-back Diciamo che la utilizzano anche alcuni tryharder questa skin Grazie per i 33 spec Intanto in live Allora poi andiamo avanti con Ascia ed Elica Per quelli che sono in live lo rifaccio vedere dopo lo shop Ascia ed Elica Ok sentiamo il suo sound Ok Poi andiamo a vedere questa skin da 2000 v-back Cacciatore dei cieli Eccolo qui Poi andiamo avanti con Le altre skin ragazzi E' ritornata Contrabandiere ragazzi Dopo tantissimo tempo che non usciva nel negozio oggetti Ok eccola qui Ok Poi 1200 v-back per lei Verge Verge Anche lui non lo vedevo da 56 giorni ragazzi Poi c'è corsa della foglia ragazzi E' mobile ragazzi Corre molto di più della corsa normale O uguale Non mi ricordo come corre Vabbè comunque No impossibile Sennò era troppo squilibrato Ok poi c'è L'emot che ha fatto anche Uno dei vincitori Della sfilata di Fortnite di questa sera E poi c'è Sparing con l'ombra Oh mio dio Ah ok questo è infinito Da 200 v-back Questo è bello Questo è bello Vabbè ragazzi Io con questo shop vi saluto a tutti Sono ancora in live Sono ancora in live E niente ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo video E live ragazzi domani Anzi oggi Perché è già passato mezzanotte Quindi diciamo domani Alle 20 Dalle 20 alle 24 Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao